Ciao a tutti ragazzi, io sono Blaze, aspettate, 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 ho sbagliato l'intro, rifacciamola. Ciao a tutti ragazzi, io sono BlazeYD, che è BlazeYD che mi parla, mi sono confuso di nuovo. E oggi mi dice che siamo su, come si chiama sto gioco? Ok, non va da casa il mio nome, è un domenico, è da bene a casa. Oggi siamo su Roblox, penso lo conosciate tutti, Roblox. C'è chi non lo conosce non è umano. E oggi giocherò, ero deciso se giocare a WarCut, PizzaPlays oppure Voltaire Mystery 2. Dato che già qui ci ho giocato un po', giocheremo qui che non ho mai giocato. Che io, vabbè, non mi interessa. Vediamo se si può giocare così, ok, sì, si può giocare così. Picazzo, cercatemi su Roblox, Picazzo. Aspetta la data. Ragazzi, cosa sta succedendo? Cosa succede? Ok, avevo capito. Usce. Non, 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 non. Ok, noi siamo quelli con la faccia al muro, però, sì. Noi siamo gli assassini, forse. Forse siamo gli assassini, signori. Bellissimo, speriamo, speriamo, speriamo. Ah, no, c'erano tutti il coltello razzato e poi sicuramente gli assassini. Comunque, ci divertiremo. Non è il livello 50, non è il livello 100, non è il livello 88, livello 72, 36, 26, 25, 24, 8, 5. E dovina chi è il livello 1? Io, 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 che schifo di gioco. Questo gioco l'odio, ragazzi, non avete idea di quando io l'odio. Lo sto odiando di già dall'inizio del gioco. Si parla di giocare. Devo giocare. Mi fate giocare, devo giocare, solo giocare. Tra l'altro, quale casa normale si tiene delle scatole con delle spade attaccate. Poi, i divani si li tiene sopra la scala, è dozzotto la scala. Ok, abbiamo capito che Roblox non sa arredare le case. Sì, ma se prima di domani mi fate giocare, grazie. E per un video per YouTube, fatemi giocare subito adesso. Raga, dove fanno giocare? Non mi scherzo. Oh, ma scherza? Si scherza? Ok, me la salto su questa parte, me la salto. Ok. Ok, sono lo sceriffo io. Io sono lo sceriffo. Praticamente io che devo fare? Devo ammazzare... Ecco, ecco qui. Ok, l'ho capito. Devo praticamente prima cercare l'assassino. Dopo la devo sparare, non posso sparare gli indocenti. L'ho capito, l'ho capito. L'ho capito. Eh, 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 è trovato. Ah, mi stava proprio... Guarda l'assassino. Raga, come si spara? Voglio sapere. Anche solo per informazione, come si spara. The first gun gun knife. Ah, no, abbiamo vinto. Perché non... Ah, li vanno 4, infatti. Si vola. Ti 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 ti. Spider-Man, Spider-Man. Sono svenuto, raga. What? What? Vedete che... Mi ho fatto solo una partita e sono passati già 5 minuti. Ok. E dai, eh. No, l'indocente no, è noioso. È tipo la cosa più noiosa del mondo. Ah, già abbiamo visto l'assassino, credo. Già credo di aver visto l'assassino, raga. No, raga, questo è l'assassino, questo è l'assassino, questo vi ammazza. Questo vi ammazza, questo vi ammazza. Però qui ci sono delle volete che non so cosa servono, ma li prendo lo stesso. Ah. Non ho capito cosa servono le volete. C'è l'assassino che mi sta cercando come tipo mia nonna la pezziole, no? Ce l'avete presente? Un giorno è morto. Addio. Due sono forti. Addio. Amici, addio. Spiegatemi a cosa servono queste volete in questa modalità. Cioè devi sopra a vivere, non devi raccogliere i soldi Che io sappia, che io sappia Soldi, 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 signori, soldi, 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 soldi Ma siamo pieni di soldi, soldi La città, ma nessuno lo sa, ieri, ieri, qua, ora, dove sei papà? E metà cica è una sola Cosa è successo precisamente? Non ho capito Non ho capito cosa sia successo, però Ok, ok lo stesso Cioè ma sono tipo, io sono di livello 4 Quelli sono due di livello 100 e due di livello 88 Anche solo fisicamente, probabilmente, matematicamente Insufficientemente, geograficamente, storicamente Duasolelemente Come pensi di riuscire a battere uno di livello 100? Che a quest'ora sarà tipo un pro anche su Fortnite C'è quello che io odio Lo preciserò sempre E vabbè, il tempo passa Prima di domani, grazie Ciao a tosse, ciao Posso essere io Posso essere io per favore, assassino Così almeno assassino tutti All'ufficio Tutti all'ufficio Ok, abbiamo capito che giocheremo sicuramente qua Guarda, sono sicuro, eh Per un altro, le circostanze che ci sono 300 persone tutte abbassate qui Per un altro giocheremo qui Eh, che cavolo, sempre innocente sono Eh, che cavolo Questo è lo sceriffo Allora, noi stiamo a cadere lo sceriffo Grazie Questo non è lo sceriffo, raga Dobbiamo stare a cadere lo sceriffo Perché, beh, io non ho capito una cosa Dobbiamo correre Eh, d'accordo siamo, d'accordo siamo Eh, d'accordo di bloccare, santo Dio Poi lo ci ammazzo Io ho già creduto di aver trovato Dico l'assassino Ecco, ecco l'assassino Ah, lui è lo sceriffo Perfetto C'è lo sceriffo Allora Siamo protetti Per bene Ok Cioè, se tipo la vingiamo Questo è bellissimo No, è partita, eh No, signori C'era l'assassino Oh mio Dio Ha ucciso lo sceriffo L'assassino Oh mio Dio Non si fa Che schifo Che schifo Che schifo di persona Che sta salendo Scappiamo di qua L'unica via L'unica via Questa Che schifo Che schifo però Raga Dai C'è lo sceriffo Boh E vabbè Mi si impacca il gioco Ma che Allora Che schifo Però l'assassino Così Di come sono morto What What Vabbè raga Per questo video è tutto La BladesYD È tutto Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate mi piace Vabbè Ormai la sapete La storia La BladesYD È tutto È tutto